Il tessuto adiposo è costituito in prevalenza da adipociti, cellule tipiche cariche di lipidi. Esso possiede, scarsa sostanza fondamentale, poche fibre di tipo reticolare, moderata, vascularizzazione e innervazione, un metabolismo cellulare marcato e un continuo ricambio metabolico in quanto i lipidi contenuti della adipocita sono in continua scissione e sintesi. Perciò è coinvolto in processi come l'appetito, la fertilità e la difesa immunitaria.